bene trovati amici ma soprattutto amiche dello spalino puntocom appuntamento numero 4 della seconda stagione della diretta del mercoledì dello spallino della diretta da divano ciao martina squersanti ciao martina poletti la rivincita per confondervi le idee abbiamo deciso di chiamarci anche con lo stesso nome due martine esatto va bene però una è marta e la tre polli quindi abbiamo la distinzione non c'è leo bis scuola ciao mauro intanto che ci saluta non c'è leo bis scuola non c'è neanche uno sponsor che che sostiene questa diretta quindi ne approfitto per lanciare un appello se qualcuno decide magari di accostare il proprio brand personale o qualcos'altro a questa diretta ci contatti info chiaccio allo spallino puntocom e non che questa diretta abbia grandi costi però insomma se lo spallino è ripartito e anche perché vogliamo provare a costruire qualcosa care martine allora manca leo per chi chiederà lo dico subito tanto poi succederà che qualcuno chiederà col chiederlo anche dopo leo leonardo bis scuola in questo momento è a pordenone non per salutare rastelli ma per ragioni di lavoro che non sono quelle del giornalista ma quelle dell'ingegnere che è una carriera per metterlo in sovrimpressione si è vero è una carriera decisamente più remunerativa mi sento allora intanto ciao stefano ciao matteo e ciao barbara e ciao in amici poi tutti quelli che che ci stanno guardando e ci collegheranno più avanti comunque vedrò di riuscire a salutare tutti care care martine allora si torna in trasferta si torna in trasferta dopo quella quel bel pareggio contro il parma e quel 2-2 che ha fatto venire giù la curva e c'è stata la pausa per le nazionali quindi ci si è riposati ci si è rinfrancati adesso si torna in trasferta dove la spalla ha fatto zero punti stefano c'è da urla dove metterti in mezzo no no dai mi piace di più stare su un lato ciao rovi ciao gianluca ciao maurizia francesca ciao federico sto pubblicando tutti i commenti e allora cittadella non è proprio il posto ideale per provare a schiodare uno zero da dalla casella punti fatti in trasferta oppure sì allora vista la situazione attuale a zero punti in trasferta direi che tutte le prossime trasferte saranno no dai non cominciare così va bene lo sapete che è sempre la mia quota stilistica quella di dire la l'obietà ad ogni modo non lo so direi che invece di rompere no il discorso ok allora ehm aggiungo qualche elemento il cittadella è una squadra che è rognosa per tutti e in questa stagione in casa ha perso una volta contro il lecce eh fuori casa ha fatto malino ha vinto l'ultima partita a frosinone ma eh ne ha persi anche due con benevento cremonese che per la verità sono due squadre molto forti però in casa 1 a 0 a vicenza 4 a 2 al crotone 1 a 0 al pordenone e poi appunto ha perso 2 a 1 con il lecce è una squadra decisamente eh problematica ciao alessandro e intanto anche luigi malagò che dice corsare a cittadella punto scritto tutto in maiuscolo l'ha urlato l'ha urlato quali sono le 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 buone ragioni per pensare che la spazio alla corsara a cittadella oltre alla legge dei grandi numeri eh alla quale la poli non crede non è vero che non ci creda ad ogni modo direi che nell'ultima partita abbiamo dato una dimostrazione di essere presenti di essere comunque reattivi i buoni presupposti ci sono ci tengo anche a sottolineare che il mio pronostico era stato corretto l'ultima diretta che avevo fatto quindi colombo andiamo lì andiamo lì andiamo lì andiamo lì eh ma Marta sì perché tu eri a far bisboccio quindi non sai quali erano stati i pronostici eh la poli aveva detto che colombo eh sarebbe stato sarebbe stato decisivo e tutto sommato direi che lo è stato lei aveva detto caprodossi non si sa perché comunque no e io io avevo detto sec che oggettivamente è entrato dalla panchina e ha conquistato la punizione che Viviani ha trasformato anche con un po' di fortuna in una punizione in un gol quindi alla poli do un punto io me ne do mezzo perché mi sembri un po' troppo generoso con te stesso ad ogni modo perché vabbè adesso mi sembra un po' nell'arrampicarsi allora non mi do mezzo ti do il punto a te tanto io ne avevo già due quindi non ho non ho problemi ma si può sapere com'è la classifica la classifica è che io ho due punti la poli uno e io e lui siamo zero ok colombo capo pirata dice luigi allora intanto sala ci chiede quest'anno niente però no perché lo hanno già intervistato sia la nuova che lì carlino in uno spazio di tre giorni non perché non volessimo farlo anche noi ma perché secondo me si è anche un po' rotto le balle di dire sempre le stesse cose e quindi niente si può leggere si può leggere sui giornali avevo chiesto a eros schiavon di venire a farci compagnia stasera ma eros sta giocando a sant'agostino e il mercoledì sera si allenano e quindi una bella fregatura l'alternativa sarebbe stata spostata la diretta giovedì ma magari magari se proprio non c'è altra alternativa altrimenti comunque e io vi elenco qualche buona ragione per credere nella vittoria cittadella dice sarà l'altra volta portato sfiga si in effetti e intanto colombo caldo come una stufa dopo non solo dopo il gol con il parma ma anche perché in andrea 21 ha fatto veramente due buone prestazioni soprattutto ieri contro la svezia ha avuto un po di sfortuna poteva segnare esposito anche lui molto bene due partite a titolare quindi i due ragazzi sono carichi dure forse avranno anche un po di di residui ma insomma sono giovani uno del 2001 del 2002 quindi insomma se non hanno della birra in corpo loro chi dovrebbe averla e poi due la legge dei grandi numeri tre mi figuro che clottetta sia riuscito a farsi un'idea su cosa deve succedere per portare via tre punti in trasferta perché lui dice ma noi giochiamo bene però per un motivo per l'altro poi le cose il risultato non arriva ma se ci ricordiamo clottetti c'è sempre il risultato mi interessa relativamente voglio vedere alcune cose che la squadra sta facendo sì diciamo che scusate mi sono incassata e il discorso è sempre più o meno lo stesso la spalla c'è si fa sempre un po fatica a trovare le motivazioni per le quali magari in casa si gioca bene e fuori non si giochi bene e vedremo anche la formazione che metterà in campo clottetta domenica sera ah perché c'è bisogna aspettarsi qualcosa di diverso dal solito secondo te ma non credo era per quello che stavo sempre quelli ma perché secondo voi sono proprio sempre quelli perché clottetta è un allenatore che ha quell'idea lì di far giocare sempre quelli perché anche e soprattutto in virtù del fatto che sta cercando di costruire una mentalità e forse la mentalità la costruisci cementando anche un certo tipo di gruppo di titolari con quelle due o tre pedine che possono farti variare un po' lo spartito o magari sostituire i giocatori che non sono nelle migliori condizioni bisogna anche dire che questo lavoro è agevolato dal fatto che ora ci sono i cinque cambi perché magari quei tre cambi sarebbe un po' più complesso detto questo clottetta contro il palma ha fatto solo tre cambi se ne è tenuti due segno del fatto che se vede che la squadra bene o male funziona e sul 2 a 0 in favore del palma non tutti avevamo questa convinzione evidentemente lui vuole fare meno cambiamenti possibili c'è poi un elemento secondo me che è interessante nelle ultime tre interviste consecutive di Gio Taccopina l'ultima rilasciata a Mauro Malaguti e il resto del Carlino il presidente ha elogiato apertamente Luca Mora che è uno dei giocatori più ignorati da Clotet a cosa dobbiamo ricondurre questa glorificazione di Luca Mora? è una mossa paracula di Taccopina per dire sì un giocatore che piace ai tifosi piace anche a me oppure secondo voi c'è qualcos'altro? secondo me è proprio oltre il discorso piace la tiposeria non è che è un discorso più anagrafico quindi tu dici che c'è una vana possibilità che potremmo rivedere Luca Mora in trasferta con Cittadella? no non so se la Marta pensa questo ma io non lo so io ci spero sempre cioè perché no scusa non partiamo prevenuti ma non partire prevenuti Marti è che ormai siamo un po' inoltrati per poter dire che Luca Mora dopo sette partite una mente di decena si è fatta sulla stima che Clotet può avere di lui però mi incuriosisce questo questo continuo continua situazione di Tacopina che a ogni intervista infila il nome di Mora ma non è che gli chiedano di Mora è che lui ogni volta parla della squadra e dice no a me la squadra mi piace il gruppo è una figata e voglio fare un elogio a Luca Mora e l'ho già fatto in tre occasioni consecutive e a sto punto non vedo l'ora che arrivi il sabato per chiedere a Clotet senti ma al presidente Mora piace un mucchio a te perché non piace? e vogliamo capire perché no? ma magari Mora si è posto come messia dello spogliatoio come sindacalista di spogliatoio come sindacalista e quindi guidando può essere una guida per i giovani visto che comunque ce ne sono molti non lo so questa è l'unica idea che mi possa essere data sull'elogio costante di Tacopina verso Luca Mora e non vedendolo mai mettere un piede in campo però è un discorso che avevamo già fatto e direi che si conclude perché non ci stancheremo mai di fare esatto faremo un altro messaggio in sovraimpressione Joe se ci segui metti una buona parola e sai che ci dicono Martina e Leo perderanno anche la prossima secondo le statistiche la prossima statistica poi le statistiche? Edoardo ha elaborato un modello matematico che gli permette di capire chi di noi sbagliare pronostici vabbè li facciamo alla fine ovviamente come al solito vedo che comunque arrivano anche commenti per la maggioranza femminile vabbè Angelo in maniera un po' come dire sbrigativa scrive vabbè ma hai due gnocchi in una botta stasera batterete ognuno che mi ascolta avevamo anche chiesto Sara Pinna ma no non è vero però vedi che alcuni ci chiedono se secondo noi si merita di fare il titolare Mora che c'è qualche grande è una richiesta legittima e che ci facciamo sempre tutti quanti se Mora merita di fare il titolare lo so solo Clotet visto che lo vedi in allenamento quello che dico io non è questo cioè io non sto dicendo né che meriti né che non meriti sto dicendo che mi sembra curioso che Tacopina lo citi esplicitamente ogni volta in questa specie di ruolo di capitano non giocatore che è particolare onestamente non riesco a capire non riesco a capire la logica di tutto questo e se ci devo vedere una logica ci vedo solo una logica paracula tutto lì cioè di dire butto lì un nome di uno che bene o male unanimemente è amato da tutti e faccio capire che lo rispetto anche se non mette mai i piedi in campo Angela ci scrive anche gioca bene gioca male Luca Mora è nazionale è un sogno che purtroppo credo sia trambucato però Luca Mora nel 2015 quando arrivò alla spalla era riduce da una vittoria alle universiadi quindi la maglia azzurra in realtà l'ha indossata quindi complimenti a lui poi adesso nel frattempo si è laureato quindi nel caso non potrebbe essere più convocato per l'universiadi a meno che non voglia iscriversi alla specialistica di filosofia cosa che tenderei a escludere in questo momento Massimo ci dice era sul mercato Mora sì è vero però non ci sono mai state delle vere trattative per farlo partire anche perché lui fino ad agosto sostanzialmente era dell'idea di giocare non credo avesse avvisaglie di un possibile accantonamento Piero Fioravanti invece ci dice che il possibile motivo per cui se ne parli molto è che si voglia creare un po' di mercato per gennaio secondo me non ha bisogno Mora che qualcuno gli crei del mercato a gennaio con delle dichiarazioni perché tanto i giocatori lo conoscono tutti e se uno lo vuole lo viene a prendere poi non credo che Luca abbia chissà quali pretesi a questo punto della sua carriera a 33 anni sa che probabilmente insomma sta entrando nella fase finale è una cosa che mi addolora dire in realtà perché non lo considero neanche vecchio ma io sono tre anni più vecchio di lui quindi sì diciamo che se fossi un calciatore sarei già proprio agli sgoccioli agli sgoccioli mi fa piacere vedere che Stefano ci chiede se abbiamo un aggiornamento sullo sblocco di Viviani no Viviani non c'è ancora sblocca no aspetta controllo voi parlate di qualcosa che io intanto no comunque volevo leggere il commento di Edoardo che dice che Tacopina ha citato anche Esposito sono tutti i giocatori della vecchia Spalo quindi dai li terrai in considerazione per un discorso di gruppo no sì può essere anche questo poi sicuramente su Esposito c'è da fare un ragionamento molto diverso rispetto a quello che si fa per Luca Mora Esposito ormai è titolare fisso si sta guadagnando il suo posticino sempre anzi diciamo che se lo sta consolidando e è anche un gioco non si ha sbloccati bene no non credo ma le nostre le nostre campagne social non stanno avendo grandi successi perché anche ingaggiate cremonesi non sta funzionando quindi ho scritto a Michele scusa settimana per chiedergli scusa di avergli fatto credere che un nostro appello avrebbe potuto sbloccare qualcosa scusate interrompo perché volevo leggere il commento di Alberto che ci chiede se ci sono novità sullo stadio Alberto questa cosa qua la devi chiedere mercoledì prossimo che ci sarà Leo che è il nostro è il nostro consulente è il nostro consulente esperto forense no vabbè poi è un ingegnere figurati chi viene di lui no al momento in realtà non ci sono novità nel senso che adesso lo stadio passa il 75% di capienza però è il 75% del 50% esatto perché tra Gradinata e Curva Est purtroppo rimangono tristemente chiuse a causa del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria Tacopina nell'ultima intervista ha detto che la situazione dovrebbe sbloccarsi vicino al mese di dicembre tendiamo a credergli nel senso che evidentemente lui ha informazioni dall'interno e quindi aspettiamo fiduciosi a dicembre manca ancora più di un mese e mezzo Tacopina rientrerà in Italia sabato perché domenica sarà cittadella magari insomma se apparirà in conferenza stampa gli chiederemo di approfondire l'argomento insomma di capire un po' che passi sono stati intrapresi dalla SPAL fermo restando che la SPAL ricordiamo le parti lese in tutta questa storia e quindi non è che può far granché se non far capire che tenere lo stadio parzialmente chiuso è un grave 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 danno per le sue finanze Tacopina la partita cittadella la vedrà seduta in tribuna o nel settore ospiti anche questo sarà interessante da verificare secondo me farà metà e metà come l'altra volta perché è una cosa che gli piace fare anche perché a cittadella mi pare di capire che ci saranno veramente tanti tifosi della SPAL non abbiamo i numeri in tempo reale della prevendita però mi dicevano che stanno andando via parecchio forte beh cittadella è di consapevole una meta comoda è dietro l'angolo quindi è lecito pensare che tanti si stiano spostando vediamo un po' se ci sono dei dati che si riescono a trovare infatti sul sito di TicketOne è l'unico settore in cui la disponibilità è indicata come media negli altri ci sono tutte disponibilità alte ma città da parte che va a vedere la parità di cittadella mentre quello del settore ospiti è praticamente non dico in esaurimento però non rimangono tantissimi di quattro settori uno è già andato venduto quindi se a me tre quattrocento tifosi domenica cittadella non è male bene potrebbe essere un ulteriore elemento di analisi per la prossima settimana decisamente ma è una cosa visto che ho due signorine qua con me domenica arbitra una signora finalmente signora da un signora si chiama signora il signor arbitro è il signor arbitro esatto quando verrà presentata allo speaker dirà dirige l'incontro la signora Maria Sole Ferrieri Caputi esatto allora l'ultimo precedente della SPAL con un ufficiale di gara donna non è andato proprio non è memorabile diciamo Marta te lo ricordi cosa? cosa? stavo leggendo i commenti dei vinghetti già oltre 300 vendute scusate buoni buoni più che buoni ma ci sono ancora tre giorni poi figuriamoci no dicevo ti ricordi l'ultima volta in cui un ufficiale di gara donna si è reso protagonista di una partita della SPAL si era stato non mi ricordo la partita era Cosenza SPAL a febbraio è vero segnò Moro e le annullò il gol per un presunto gioco non c'era esatto ok insomma diciamo che mi sembra che stiamo facendo un po' di tutto in erba un fascio solo perché Angelo sta aggiornando il dato dice al momento più di 400 cittadini molto bene bene molto bene trasferta a vecchio stampo direi basta che non venga la guardalinea di Cosenza no quella non c'è però scusate mi lascio perplessa una cosa la direttrice di gara designata per la partita di domenica è all'esordio assoluto in serie B ha 31 anni vabbè l'età è irrilevante ma ha 31 anni all'esordio assoluto in serie B e ha all'attivo solo 13 partiti in serie C cosa significa questo? perché i maligni dicono hanno dato questa partita alla signora Federica Putti perché sostanzialmente la lega di serie B anzi l'AIA la sostituzione arbitri considera questa partita una partita di bassa lega nella quale possono fare anche dei pasticci tanto chi se ne frega ma io non vorrei entrare troppo nel merito di un'analisi femminista però c'è da dire che dacci il punto di vista femminista io assolutamente ho presentato giusto ieri in un'argomentazione sul gender gap vabbè ok non andiamo troppo nel tecnicismo siamo sempre parlando di calcio di conseguenza secondo me per una donna è molto più complicato rispetto che per un uomo fare carriera nell'ambito calcissimo ma arbitrale penso sia l'apoteosi del posto peggiore dove una donna possa trovarsi in questo particolare momento durante una partita di calcio si è visto anche con il triste episodio di quella povera ragazza che faceva l'addetta ai campi che insomma le sono stati intonati dei cori non simpaticissimi e quindi anche farla esordire in una partita di serie B non so se sia anche una questione di farsi qualche remoro in più però sicuramente il suo percorso è molto più minato rispetto a quello di un collega uomo questa è la mia personale opinione poi se pensiamo anche che lo stereotipo in merito sia sempre che le donne non capiscono niente di calcio ripeto il suo percorso rimane costellato di ostacoli qual è invece la vostra opinione io volevo leggere il commento di Sara che ci dice non parliamo di donna parliamo di persona che ha poca esperienza comunque c'è il VAR qualcosa al massimo rimedia sono d'accordo ma infatti secondo me il tema non è tanto il fatto che l'arbitro sia un uomo o una donna perché comunque stiamo assistendo a una sempre maggiore incidenza di direttori di gara direttrici di gara anche nelle categorie più importanti il punto è che un arbitro un arbitra non so come chiamarlo che ha diretto solo 13 partite in serie C mi sembra venga lanciata un po' prematuramente in serie B insomma ero abitato a pensare che almeno 50 partite in serie C uno le dovesse fare invece a quanto pare si è molto più sbrigativi nel buttare in campo arbitri inesperti quindi sono curioso di vedere come se la caverà e speriamo che non ci siano episodi come quello che abbiamo visto a Cosenza perché quello poi tirò fuori il peggio da un sacco di gente insomma ricorderete alcune cose poi ci rivelarono anche spirituosi tutto sommato e vabbè però in alcuni casi si andò un pochino oltre le righe e fu abbastanza sgradevole sotto ogni punto di vista io confido che faccia a tutti ricredere che la sua inesperienza sia dettata semplicemente da una carenza di opportunità che poi scusate se dopo dovesse dare due rigori inesistenti alla spalla penso che sarebbe beatificata in ogni caso riceverebbe molteplici inviti a scena a Ferrara c'è anche la sagra madonna boschi allora andiamo su un tema andiamo su un tema allora ci sono pochi arbitri di A chiamanti per partire di SLC ah ci sono pochi arbitri arbitri di A chiamanti per partire di SLC sì in effetti gli arbitri sono sempre meno infatti adesso hanno fatto nei dilettanti questa cosa del doppio ti seramento che se tu sei anche un calciatore puoi fare il corso da arbitro insomma è una cosa che non credo avrà grande successo però insomma al giorno d'oggi andare a fare l'arbitro credo sia una brutta storia e no vorrei parlare di una cosa che sta girando in questi giorni il titolo è mutuato da una famosa da una famosa citazione di Walter Mattioli Colombo ma in due otto andare perché perché è un sito tendenzialmente non molto affidabile in questi giorni ha voluto un po' far sussultare i tifosi della SPAL dicendo che il Milan considerato che Ibrahim e Cegirud sono abbastanza malconci starebbe considerando l'idea di riportare Colombo alla base era più o meno questo periodo dell'anno scorso forse un po' più avanti verso novembre in cui veniva scritto lo stesso di Esposito ve lo ricordate? Sì direi che l'ipotesi al momento sembra completamente infondata sinceramente per quella che è la mia personale opinione sinceramente sembra i sovrani è la stanchezza adesso mi hai fatto anche perdere il filo dicevo che portare via un ragazzo così giovane che sta facendo comunque bene in B potrebbe essere anche controproducente per una squadra come il Milan riportare buttarlo nella mischia della serie A mi viene quasi da paragonare il caso di Colombo a quello che fu il caso Bonifatti della sua esplosione in serie B con Leo Semplice e dopo non appena se n'è andato dalla spalla non si è mai stato in grado di trovare un posticino per gli anni successivi ha avuto delle difficoltà diciamo che l'anno scorso aveva fatto Bione Udine adesso sta facendo delle figuracce col Bologna oggettivamente esatto non che ci dispiace più di tanto che le stai facendo assolutamente direi proprio di no Michele si dice non possiamo paragonare Sposito con Colombo e Sposito ando via perché non giocavo è vero infatti volevo arrivare lì nel senso che uno è vero che perché avevo un ritorno audio porca miseria è vero che le grandi squadre quando ti prestano i giocatori possono anche fare delle forzature e riprenderli e magari mandarli da altre parti ma Esposito ovviamente non giocava più e quindi la Spal non aveva più interesse a tenerlo lui voleva cambiare aria e questa cosa si è stata fatta con la soddisfazione di tutti Colombo qui sta giocando sempre sta bene fa gol è titolare praticamente inamovibile perché nessuno può contendergli la maglia titolare visto che l'alternativa è Melchiorri che per quanto sia un giocatore rispettabile ma comunque non ha neanche le caratteristiche per fare quello che fa Colombo quindi credo proprio sia una cretinata pensare che il Milan lo voglia portare via a maggior ragione perché come dicevi tu Poli sta facendo bene quindi perché toglierlo da un contesto in cui funziona per portarlo a fare i 10 minuti il quarto d'ora nel Milan che è sempre il Milan lotta per lo scudetto e gioca in Champions però insomma direi che è prematuro e poi aggiungerei una cosa intanto ci sono dei contratti quindi dubito seriamente che il prestito possa essere interrotto unilateralmente dalla squadra che ha prestato il giocatore e poi altro riferimento a Tacco Pina e alle sue interviste anche lui ogni volta non perde occasioni per dire che Massara il direttore sportivo del Milan è uno dei suoi migliori amici in Italia è pieno di migliori amici Tacco Pina perché se andiamo a vedere tutte le interviste ce ne sono parecchi però lui dice sempre che Massara è un suo grande amico e quindi dubito che se Massara è veramente suo amico voglia voglia chiedergli anche solo di dire ma ci ritai indietro ci ritai indietro Colombo comunque si dicono Colombo è in prestito annuale come da contratto se la SPAL non vuole farlo andare lui fino a giugno non si muove nel Ferrara ma infatti sono anche io di questa idea tutti quanti era solo per mettere qualche puntino sulle i su questa storia perché ho visto che questo link circolava un pochino troppo sommessamente ha detto t'accoppiano di chi non è amico chiede Piero in effetti è un po' l'amico hai detto che la fonte non è attendibile io non la considero attendibile poi purtroppo nel mare magnum dei siti internet di calcio succede di tutto parlando di gente che non è rimasta amica facendo una piccola deviazione Pasquale Marino il povero Pasquale Marino perché si è rimasto male perché ditemi la vostra su Pasquale Marino poi spieghiamo il perché beh per me si è rimasto palesemente male soprattutto nel modo in cui è andata a finire diciamo che ha avuto gli è stato riservato un trattamento un po' ingrato e si è assunto ingrato da parte di chi? ma da parte della società cioè nel senso che alla fine tutte le colpe di quello che non era solo la sua gestione della squadra sono ricadute su di lui nonostante comunque anche la Spal secondo me ci abbia messo un po' del suo nel momento in cui non sono stati rispettati più o meno i fatti che erano stati fatti in questa stagione quando non gli è stato dato un apporto dal mercato invernale pari ed eventuali ma un attimo però un attimo un attimo un attimo momento momento un attimo momento come la gente ci segue e ci dice ma perché state parlando di Marino che è stato esonerato sette mesi fa perché oggi è uscita un'intervista su tutto sport il quotidiano sportivo il terzo quotidiano sportivo nazionale un'intervista nella quale Marino parla un po' della serie B in generale e via così e l'introduzione l'introduzione di questo articolo è questa Pasquale Marino ottimi numeri in serie B media punti 1,50 spaccati un rendimento che tante squadre anche fra le favorite oggi si sognano ma Marino senza panchina paga l'esonero a marzo la spalla squadra che aveva risollevato dopo la retrocessione del 2020 chiudendo l'andata a meno uno dalla vetta ma poi la società contravvenendo a certe promesse a gennaio indebolì la rosa invece che rafforzarla e Marino alla fine pagò per tutti questa lettura allora intanto questo è un testo che è palesemente mutuato da qualcosa che Marino ha detto al giornalista di solito funziona così del tipo non mettermela in bocca ma la storia è andata così funziona esattamente così quando si fa un'intervista a qualcuno quindi il giornalista furbacchione ha messo questa introduzione come se fosse una cosa che lui sapeva magari anche da altre fonti in realtà Marino gli ha detto senti questo è gennaio mi hanno smontato la squadra e io ho cominciato a fare schifo questa è la lettura che probabilmente ha dato alla fine alla fine dell'intervista Marino dà questa risposta anche un po' sì un po' piccata dice perché gli chiedono quando arrivedermi in panchina spero presto nell'estate di un anno fa valutravo tre proposte diverse evidentemente ho scelto quella sbagliata e quella poveretta della moglie ah sì è vero che cita anche la moglie non sopporta più e dice spero di trovare una panchina perché mia moglie non mi sopporta più è quello vabbè quella è la classica quella è la classica battutina Marino è un tipo simpatico un tipo simpatico però mi dispiace pensare che lui si coltivi questo risentimento perché questa versione della squadra smontata a gennaio ne avevamo discusso anche noi a suo tempo secondo me non è del tutto veritiera perché insomma è vero che hanno venduto dei giocatori ma a inizio stagione gli era stato anche detto che l'obiettivo era tagliare i costi ma sì quello assolutamente sì è che si è probabilmente trovato in una condizione di svantaggio rispetto a quello che si aspettava e ci sono troppe pedine da poter dire cioè lui secondo me è andato via con del risentimento per la società e per come è stato poi visto in generale mi risulta anche che se ne sia andato i rapporti con Mattioli fossero non dico tesi ma di più cioè che se Sempici e Mattioli si detestano cordialmente Marino e Mattioli si detestano ancora di più stavo per dire non sarebbe comunque una novità comunque mi risulta questo mi risulta questo tanti comunque ci dicono che Marino stava facendo bene che detto anche da lui un bel po' che il mercato di gennaio ha indebolito molto la squadra non gli si può dare molto torto ha pagato lui ma non era il solo colpevole e per dare Stefano dice per dare una scossa era l'unica cosa che si poteva fare per capire non mi interessa non mi interessa ovviamente adesso fare del grande visionismo storico su Pasquale Marino perché ormai è acqua passata e adesso abbiamo Clotet e ci piace Clotet però ecco ho trovato curioso questa intervista a distanza anche di sette mesi nella quale comunque viene rivangato qualcosa viene rivangato un aspetto un po' controverso secondo me ecco cioè il fatto che la SPAL nei dirigenti ha sempre detto guardate che a gennaio era chiaro che dovevamo tagliare i costi bla 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 e lui che dice no perché ci sono state fatte delle promesse non sapremo mai la verità ovviamente comunque si è molto risentito se anche a distanza di così tanto evidentemente evidentemente ce l'ha un po' con qualcuno oltre a Mattioli non so se ce l'ha anche con Zamunero o con Gazzoli o con i Colombarini questo non lo so però vabbè mi ha incuriosito questo aspetto Piero dice Mattioli con chi non si detesta ma no questo non è vero Mattioli è uno che va d'accordo con un sacco di gente che piace un sacco di gente dai non è vero questo però però con gli allenatori oggettivamente entrava molto in contrasto insomma tendeva a farlo vai Polli vai no no ho visto che abbiamo intrapreso il discorso marino una parte della nostra scaletta ah ho visto che no non ti stavi agganciando quello che volevo dire io quindi beh ho fatto una previsione va bene dimmi no parte della nostra scaletta era anche fare un piccolo aprire una piccola parentesi su Luca Moro sì che Marino era un suo grande sostenitore e che adesso è un'altra è stata una perdita non voluta dettata da alcune vicissitudini no no vicissitudini no però è stato il suo doveva essere acquistato alla termine dello scorso stagione nel momento in cui c'era stata l'avvicinamento tra Tacopina e la Spal quindi in un periodo di piena trattativa e adesso che si è spostato da Padova senza passare da Ferrari è andato a Catania correggimi se sbaglio Ale non sbagli sta facendo sta giocando una buona inizio stagione sì perché ha fatto sei gol in otto partite quindi sta andando parecchio bene ma la storia lì è che Zauner soprattutto voleva voleva provare a comprarlo perché insomma lo considerava un potenziale patrimonio adesso lo diventerà per il Padova perché all'epoca c'era da sborsare una cifra che insomma non era non era impossibile ma neanche ma neanche così comoda insomma ci compravi due o tre appartamenti di pregio a Ferrara penso e quindi si è deciso di non farlo e di non riscattare Moro e adesso sta facendo molto bene a Catania tra l'altro sta facendo anche dei bei gol in una squadra che non è un granché in realtà perché il Catania è un po' con le pezze del culo dal punto di vista economico è il motivo per il quale poi Tacopina ha lasciato perdere è venuto a Ferrara ma infatti c'era un commento oggi che ho letto mi ha molto mi ha molto colpito no però mi ha fatto sorridere tipo che se il cambio era Moro-Tacopina va bene così insomma perché tra una Spal povera in canna con un Moro titolare e una Spal con Tacopina che ha tutte le ambizioni che ha vabbè ci teniamo Tacopina certo non sarebbe stato male avere un 2001 un centravanti così fisico ma anche abbastanza freddo sotto porta perché se questo qua in Serie B quest'anno ti faceva 5-6 gol magari facendo la riserva di Colombo non era malissimo insomma te lo potevi rivendere facilmente però così non è Stefano dice è in Serie C che non è la B è vero però è un 2001 insomma giocatori giocatori da 6 gol in 8 partite in Serie C del 2001 non ce ne sono così tanti attenzione perché arriva una domanda critica vado allora io vorrei chiedervi dice Marco ma i 10 milioni che Gio paventava di avere per il mercato dove sono finiti? Sono finiti per pagare i debiti Marco nel senso che quando Tacopina ha preso la SPAL ha accettato di accollarsi una parte dei debiti che tra l'altro figureranno più che altro nel bilancio del 2021 e quindi una parte significativa di quei baiocchi è stata immobilizzata per coprire dei debiti che vanno pagati e quindi lì si è creato un equivoco quest'estate quando qualcuno titolava SPAL 10 milioni per il mercato no SPAL 10 milioni per coprire i costi e i costi comprendono qualche acquisto gli ingaggi dei giocatori e i debiti che vanno sistemati quindi se tanto mi da tanto lui con con l'esborso di quest'anno copre i debiti e sistema un po' la situazione prende un bel po' di contributi con tutti i giovani che sta facendo giocare e il prossimo anno effettivamente se i suoi partner decidono di rinnovare l'impegno come hanno fatto quest'anno ci saranno 10 milioni da spendere non dico tutti sul mercato perché magari un milione o due lo vuoi mettere sul settore giovanile però intanto ci saranno risorse sicuramente extra Stefano dice li metterà fuori a gennaio questo non lo so però sicuramente a gennaio a gennaio se la SPA sarà in una posizione di classifica interessante presumo che qualche valutazione verrà fatta a differenza dell'anno scorso quando questa cosa delle valutazioni di gennaio veniva detta un po' così perché andava detta per evitare di deprimere un ambiente quest'anno se ci sarà bisogno ma attenzione se ci sarà bisogno per essere sicuri di salvarsi perché se la SPA è nona in classifica ed è a quattro punti dei playoff non vanno a prendere che ne so il centrocampista più forte della categoria ma per dire dicono stupidaggini non lo faranno ci diranno vabbè siamo a posto così e salviamoci e portiamo in porto la nave e poi prossima non ci guardiamo rientrando perfettamente comunque in quelle che sono state le previsioni dell'inizio un anno di attestamento ed eventualmente l'anno prossimo è stato detto in tutte le salse che alla fine quest'anno quello che la SPA vuole fare è salvarsi salvarsi perché ci sono da sistemare i conti soprattutto e da ricostruire un ambiente e una mentalità quindi non credo che a gennaio ci si debba aspettare chissà che a meno che non capitino delle occasioni o cose del genere ma a parte che manca ancora due mesi prima che la SPA possa iniziare a pensare al mercato di gennaio ma se un po' ho capito qual è il progetto dubito che Taccopina a gennaio arrivi dicendo eccomi sono lo zio d'America adesso metto 5 milioni e prendo 5 giocatori per vincere il campionato non credo succederà faccio comunque notare ai nostri spettatori che Leo si è reso disponibile per il supporto a distanza per cui chi avesse domande nei riguardi dello stadio puoi scrivermi privatamente scusa ma Leo collegati dalla tua stanza d'albergo a Pordenone e facciamo gli ultimi dieci minuti con te mi pare che c'è un'altra domanda su Taccopina Marta da qualche parte arriva l'ho trovata io vai si sarà presentato il terzo socio di Cordata oltre a Joe è 007 Pat 007 Pat Pat Carroll che abbiamo visto qua in occasione di Spal Pordenone si il suo palestratissimo socio new yorkese che gira col jet privato e si accompagna una splendida modella ucraina no non ci sono novità su questa cosa in realtà perché Taccopina ha detto ma avremo novità presto però insomma presto è un concetto abbastanza elastico quindi quindi no Stefano ci chiede qualcosa sul main sponsor no non si sa niente sul main sponsor quindi direi che aspettiamo un mese fa ci venne detto che c'erano delle trattative aperte quindi speriamo che che vadano in porto ma non non credo sia una una priorità assillante del reparto commerciale in ogni caso potremmo anche fare una cosa una sera invitiamo il direttore commerciale della Spal e chiediamo direttamente a lui di raccontarci come va sta storia potrebbe essere una buona idea esatto Marta c'è un commento lunghissimo qua che secondo me vale la pena leggere quello di Luca Pocaterra allora Luca ci scrive spero tantissimo in clotette e do molta fiducia ma a me sarebbe piaciuto anche Venturato credo che quello che non gli è piaciuto che non gli è riuscito a Cittadella l'avrebbe fatto qua a Ferrara ribadisco tanta fiducia e rispetto per lo spagnuolo ma in futuro mi piacerebbe vedere il Veneto guidare la Spal pensa che Venturato non è neanche formalmente Veneto perché è nato ad Atherton in Australia ad Atherton in Australia non so in quale parte dell'Australia sia collocata questa città ma adesso ve lo dico non deve essere un gran posto non credo considerando che penso che sia la prima volta in vita mia che sento Atherton adesso vi dico perché i suoi genitori viene nel Queensland ok è nella parte nella parte nord est nella punta nord est in una specie di corno nord est dell'Australia è piuttosto sperduto come posto vorrei davvero capire come è finito lì comunque la città più grande vicina è Brisbane ma è tipo a mille chilometri di distanza bel posto dove nasce le foto le foto le foto sono però indicati di un posto di un posto particolarmente salvato ci sono delle belle cascate a quanto pare vabbè detto questo Venturato grande allenatore però non è mai stato cercato dalla spalla e poi soprattutto lui si è andato a Cittadella perché vuole allenare in Serie A quindi è un po' come quando Semplici l'anno scorso era fermo ha avuto mille proposte dalla Serie B dall'estero e lui ha sempre detto no no io voglio allenare in Serie A perché mi sento da Serie A è stessa di antica roba quindi Venturato per il momento rimarrà a casa in attesa di un'opportunità in Serie A a differenza di Semplici lui in Serie A non ci ha mai allenato quindi è più difficile o come lo chiami secondo me dovrà fare necessità virtù e rimettersi in gioco in Serie B detto questo Clotet lo vedo blindatissimo a Ferrara nel senso anche in un'ottica di medio-lungo termine perché Tacopina ha detto che vuole costruire un progetto con lui e ci crede davvero tantissimo quindi potrei anche sbagliarmi ma secondo me Clotet è destinato a rimanere qua almeno due o tre anni a meno che qualcosa non dovesse andare catastroficamente male insomma speriamo speriamo perché abbiamo ancora il caso Moro abbiamo già finto di parlare di Moro sei tu che gestisci eh sì no mi sono un attimo addormentato perché siamo messi a parlare un po' di tutto e di più bene allora è il momento abbiamo già detto di Viviani che non ci sblocca va bene lanciamo un nuovo appello se qualcuno vuole dire a Viviani di sbloccarci su Instagram gliene saremo grati tanto non possiamo invitarlo alla 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 diretta perché la SPAL non vuole che i giocatori vengano qua a questa diretta però possiamo invitarlo alla Sacra della Salama Madonna Boschi che eventualmente potrebbe essere un momento per riconciliarci tutti quanti quello sarebbe bene tanto Piero dice mentre l'altro sarebbe secondo l'Australiana della SPAL dopo Matthew Camp è vero Matthew Camp personaggio mitologico mitologico della SPAL di inizio anni 2000 no era prima adesso forse magari sto dicendo una scontillagine bello molto bello l'hashtag no però però scusate no nella SPAL non ha giocato solo Matthew Camp di australiano anche Carl Valeri ha giocato nella SPAL quindi ci sono stati due australiani nella SPAL pazzesco Matthew Camp ha giocato nella SPAL nel 2000-2001 allora si mi ricordavo bene Viviani sblocca dai Viviani sblocca grazie Buzzo portiamo avanti questa campagna vediamo se riusciamo a vincere bene Camp stagione 2000-2001 grazie Federico infatti è andato a vedere subito su Wikipedia e allora chi vuole cominciare per il più più e meno della partita di di domenica io spererei latte latte tanto perché perché sono una grande fan perché questo entusiasmo per latte latte elabora questa tua scelta per favore no perché mi piacerebbe che mettesse a frutto quello che tutto il lavoro che sta portando avanti ormai da un bel po' di tempo cioè per me è arrivato il momento di concludere concludere cosa cioè nel senso di concludere di fare di farci vedere qualche una partita bella divertente qualche gold va bene sei una grande fan di latte latte va bene segniamo questa preferenza e allora Polli tu cosa dici ma io sono noioso sto ripetitiva una volta che mi focalizzo sul vincente io punto sul cavallo vincente ma la domanda si può votare sempre lo stesso o dobbiamo cambiare vabbè allora io rivoto il mio colombo vincente il tuo colombo vincente vabbè vedi Guzzo dice che latte latte è la versione mignon di Will Smith non so mai c'è un che in effetti nella sua fisionomia no è vero c'è dai no adesso vabbè fai un meme li affianchi beh latte latte è di una tonalità un pochino più più scura è vero cioè la sua pelle è un pochino più scura di quella di Will Smith almeno vado a memoria ma mi pare di sì tra l'altro era un ragazzo molto simpatico io sto cercando di capire chi scegliere mi piacerebbe dire Abou ma non giocherà neanche un minuto cioè è il nuovo Paco Natè dovremmo sponsorizzarlo di più perché secondo me non ci rendiamo conto dammi un paio di settimane e ora la vedrai che diventerà il mio nuovo Paco Natè peccato che non si giochino partite di Coppa Italia che la Spaz si è fatta sparare fuori perché se no l'avremmo visto in azione sarebbe diventato il nostro nuovo mito ricordo sempre che io la maglia di Paco Natè ce l'ho davvero? certamente non lo sapevo la uso quando vado in trasferta la usi? la uso quando vado in trasferta e quanta gente una volta sono stata immortalata quanta gente ti ha chiesto di fare una foto con la maglia di Paco? spesso e volentieri mi sono state fatte di nascosto ah ok mi sono poi arrivate per via traverse quindi vabbè e ragazzi io mi gioco mi gioco un Viviani magari può considerare l'idea di sbloccarci quindi la tua è una scelta è una scelta di pubbliche relazioni diciamo così non ho capito a cosa si riferisca Edoardo ma vabbè visto che sto guardando io voto Demba sarà il migliore forse Demba ma speriamo in realtà no io non lo spero perché se no vuol dire che se il migliore è Demba vuol dire che ti hanno spaccato la porta come ti insegnava il buon Bozau esatto Bozau se il portiere vuol dire che qualcosa non ha funzionato grande Bozau veramente mi manca ogni giorno e va bene ragazzi siamo al 52esimo minuto siamo un po' in anticipo rispetto agli standard recenti ma oggettivamente non si gioca da due settimane non sappiamo più di cosa parlare perché possiamo essere anche bravi ma non siamo dei fuori classe ma chi di voi andrà chi di voi andrà in trasferta nessuno io sto provando per un'opera di convincimento adesso vediamo Francesco vediamo se mi da per andare in bicicletta va bene no Sara ci chiede se Pai è ancora in Bulgaria assolutamente lo è vive prospera in Bulgaria gioca titolare inamovibile nella sua squadra il bot ed è meravigliosamente interessante da seguire su Instagram lo consiglio a tutti nota di merito per la tua pronuncia grazie sembra sembra veramente il principe di Bel Air a proposito di lui smith perché perché se la spassa è sempre vedi che sempre in questi resort ma lui è felice io l'ho sempre detto io l'ho sempre ammirato perché lui è felice sta bene al mondo e fa bene a stare così ma vorrei vedere se non è felice quando era la spalla dopo un anno ha preso 300.000 euro per non giocare mai ci metterei la prima se non giocano e pigliano gli stessi soldi sì ma è difficile alzarsi male la mattina in quelle situazioni di alzarsi la mattina e dire cosa faccio oggi ma boh non lo so ma in ogni caso guardo il conto magari fissolo schieno fissolo schermo un'oretta c'è anche un quarto tutti in linea sì in questo caso sì così io giovane ricco come lui non starei malissimo vabbè comunque grande pacco a te e magari lo inviteremo a una diretta il problema è che non spiccica una parola di italiano e quindi dovrebbe fare una traduzione un po' complesso fare la traduzione simultanea ne approfitto per dire a Paolo Fiori che dice domenica c'è l'arbitro donna che coraggio Paolo ne abbiamo parlato all'inizio della puntata quindi ti consiglio di guardare la registrazione che sarà sulla nostra pagina facebook al termine di questa diretta ma la troverai anche su youtube e quindi insomma lì troverai tutti i nostri commenti su questa storia dell'arbitro donna che oggettivamente non è un problema che sia donna ma deve essere solo brava e poi il resto ce ne frega il giusto però con il città ha fatto dol dice Franco Pivati è vero si riferiva a Paco Natè veramente non è mai casuale vado per la tangente ma Paco Natè è veramente un eroe perché gioca gioca la prima amichevole in ritiro e segna e non dimenticherò mai che Mora mi raccontò questo aneddoto meraviglioso che Mora quel giorno si trovava in panchina a fianco di Pippo Costa che all'epoca era il titolare e quando Paco Natè fece quel gol contro il Messi in amichevole su Adoronzo gli diede una gomita e dice oh guarda questo ti prende il posto ecco poi le cose andarono un po' diversamente poi secondo episodio gioca in Coppa Italia con Cittadella lo annuncia in formazione e al momento della lettura della formazione senti lo stadio che impattisce lui fa otto gol sotto la Ovest in maniera abbastanza casuale ma vabbè e poi per tutta la stagione sparisce perché dopo in quella parte con Cittadella non solo ha fatto otto gol ma si è anche rotto un piede è rimasto fuori due mesi e mezzo tre mesi una roba del genere rilascia un'intervista a un giornale svedese dicendo peccato che mi sono fatto male perché sentivo che ero lì lì per diventare titolare è veramente è veramente un idolo ultima della stagione Spalciandola 2-0 alla fine della partita festa perché la spalla è salva chiamano i giocatori uno per uno e numero 13 Paco Natè non si presenta senti il buato nello stadio ma lui non c'è non arriva non si palesa e a quell'epoca ci raccontarono che era in bagno in quel momento perché aveva avuto un problema intestinale e lì si è chiusa la parabola meravigliosa di questo giocatore è sempre bello ripercorrere queste storie la racconteremo ai nostri i nostri nipoti i nostri nipoti sì Martina si metterà in poltrona tra 40 anni con la maglietta dirà ma lo sapete con la lacrima va bene è andata proprio in bacca sta diretto va bene ragazzi anzi ragazze grazie di tutto e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito salutato hanno commentato hanno partecipato speriamo vi siete divertiti quanto ci siamo divertiti noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle 21 non sto lì ad annunciare un ospite abbiamo recapitato un invito non a Viviani non a Paco o a te ma a un'altra persona che non possiamo rivelare in questo momento ma è una persona veramente che ci può dare delle soddisfazioni se viene in diretta dobbiamo solo fare un'opera di contrattazione ma se viene vi garantisco che ci divertiamo veramente un sacco non dirò altro grazie Martina Squersanti grazie Martina Poletti ci vediamo mercoledì prossimo grazie a te ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti